Meglio di prima, tutto come prima. Il dibattito fra Trump e Biden a Nashville, Tennessee, non è stato la cagnara dell'altra volta, ma né l'uno né l'altro ha sfoderato una mossa a sorpresa, il colpo del K.O. E questo è un vantaggio per il candidato democratico, in testa nei sondaggi. E comunque, secondo un rilevamento della CNN, ha vinto anche il duello di ieri sera. L'incurino della Casa Bianca e lo sfidante si sono confrontati con durezza ma senza eccedere, grazie anche a una regia più attenta e al polso della conduttrice, Kristen Welker, mostrando chiaramente come la vedono, in maniera opposta, a partire dalla pandemia. Biden non esclude altre restrizioni. Trump scarica tutte le colpe sulla Cina e insiste che bisogna riaprire tutto, malgrado più di 220.000 morti e oltre 8.400.000 casi. Trump ha provato a incastrare Biden sugli affari del figlio Hunter in Ucraina, ma il Democratico gli ha ricordato che lui su questo ha rischiato l'impeachment. Sono il presidente che ha fatto di più per gli afroamericani dai tempi di Lilcon, ha avuto il fegato di dire Trump, subito rimbeccato da Biden. Sei uno dei presidenti più razzisti della storia moderna. Il Democratico gli ha contestato la politica criminale che ha separato i figli dei migranti al confine col Messico, ma Trump gli ha ricordato che le gabbie per i clandestini le avete costruite voi nel 2014. E su questo Biden ha preso le distanze da Obama, di cui ha difeso invece con forza la riforma sanitaria. Al voto mancano 11 giorni. 47 milioni di cittadini hanno già votato e i giochi sono quasi fatti. Quasi.